Per la maggior parte delle cose, a parte il processo spirituale che ho fatto, non ho mai seguito nessuna formazione. Sono semplicemente andato e ho fatto come sapevo. E ha sempre funzionato. Vedi, le cose che la gente crede che tu non possa fare. Perché, sai, una volta ero sempre su due ruote. Guardavo le quattro ruote con grande disprezzo. Non salivo mai su una macchina. Anche se qualcuno mi chiedeva di andare nella sua macchina, dicevo no, dimmi dove e verrò con la mia moto. Perché salire su un veicolo a quattro ruote era considerato, lo farò quando ho 85 anni. Semplicemente non lo concepivo. Non potevo entrare in una macchina. Dicevo non salirò su una macchina. Una volta è successo che stavamo andando in una riserva naturale. Io ero sulla mia moto e questa ragazza guidava un'auto con altre quattro persone. E nessuna di queste quattro persone sapeva guidare. E questa ragazza si sentì molto male ed era terrorizzata perché era una riserva naturale. Non riusciva a guidare. Allora non sapevano cosa fare. Lei disse, non riesco a guidare, sono troppo stanca. Non mi sento a mio agio con tutta questa foresta. Non posso guidare. Allora ho detto, non c'era altra via. Altrimenti dovevamo aspettare e tornare indietro. Allora ho detto, ok. E ho parcheggiato la mia moto. Ho detto, ok, guiderò io. Non avevo mai guidato un'auto fino a quel momento. Ma fin dalla mia infanzia, che fosse un autobus, un'auto o qualsiasi cosa che qualcuno guidava, ho prestato attenzione a come succedeva. Mi sono seduto e ho guidato per 90 chilometri. su una pista stretta, una pista stretta da, sai, verso Nagarole, che all'epoca era una pista molto stretta. Ho guidato tutto il tratto e ho parcheggiato la macchina lì. Poi ho detto, questa è la prima volta che ho guidato e... non è così male come pensavo. Pensavo che guidare una macchina fosse per meno mate. Pensavo, la moto è la cosa vera e l'auto è per le persone meno mate. È come per le persone disabili, che non riescono a stare in equilibrio su due ruote. Ho detto, non è così male. E loro hanno detto, cosa? Non avevi mai guidato? Ho detto, no, è la prima volta che ho guidato. Come fai a guidare? Perché non potrai guidare? Ho visto le persone guidare. Quasi tutto quello che ho fatto è così. Non ho mai seguito nessun tipo di formazione. Ci vuole solo un po' di attenzione. Ogni essere umano può farlo, ma hanno degli arretrati nella loro testa. Portano con sé così tante cose su come non può succedere. All'inizio è un po' di attenzione.